Una squadra coesa, competente e pronta a fare di più. Con queste parole il segretario del Partito Democratico di Fanno, Alberto Bacchiocchi, ha presentato la lista dei 24 candidati alle prossime elezioni comunali. Tra loro ci sono operai, piccoli imprenditori, liberi professionisti e tecnici specializzati. Volevamo che la disponibilità, ha precisato Bacchiocchi, nascesse dal basso, dagli iscritti e dai simpatizzanti, evitando che fossero i vertici del partito ad indicare chi dovesse candidarsi. Prima di presentare la nuova squadra, il segretario ha ringraziato i compagni che hanno profuso in questi anni un grande impegno. Un riferimento agli amministratori uscenti che hanno rinunciato alla candidatura, come i consiglieri Terenzio Ciaroni, Sergio Del Rico, Francesco Torriani, Renato Claudio Minardi, la Presidente del Consiglio, Rosetta Fulvi e l'assessore Marina Barnesi. È venuta fuori una squadra di cui sono orgoglioso di in qualche maniera guidare. È una squadra che punta alla continuità anche nei prossimi cinque anni, con l'augurio che il nostro candidato, Massimo Seri, possa continuare a governare la città. Proprio in questa ottica ho chiesto anche a tutti gli amministratori, in carica, di confermare il proprio impegno. Al tempo stesso abbiamo costruito una squadra molto nuova, molto fresca, giovane, competente, quindi siamo convinti di poter continuare a giocare un ruolo importante all'interno di questa amministrazione e di quella futura. Abbiamo rappresentato il maggior numero di sensibilità, ha proseguito Bacchiocchi, da quella sociale a quella ambientale, da quella economica a quella culturale. Ma prima di tutto, ha concluso, volevamo persone per bene e disponibili ad impegnarsi e credo che l'obiettivo sia stato raggiunto. C'è un progetto per continuare, per proseguire verso questa direzione, ma soprattutto la cosa bella con tanti nuovi giovani, tante nuove competenze, tante nuove intelligenze che si affiancano a quelle che hanno avuto già esperienza.